Ecco i nostri giovanissimi prima della gara clou di oggi pomeriggio, si rilassano con un bel bagnetto, ecco la formazione che scende in mare, questa è la formazione che scende in mare. Oh che siete i panchinari voi? Ma andate via, Michele è l'antitoto per chi ha il maticone, guarda i pitbull, ecco i nostri ragazzi, ecco pure, vai, no 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 senza buttare la maglietta, basta fare un bagno. E' meglio che vai, ecco, oh dove va il sirenetto? Ecco la formazione dei giovanissimi, ecco pure Enrico, Enrico Caporale, eh a sé, eh a sé.